Ben trovati e buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Tele4 con questo nuovo appuntamento di Trieste in diretta. Parleremo di ESOF 2020 in questa prima parte proprio dedicata all'approfondimento. Siamo in compagnia dell'architetto Tazio Di Pretoro dello studio Metro Area Associati. Buon pomeriggio e ben trovato con la qualifica anche di direttore tecnico di ESOF, un titolo che la accompagnerà almeno fino a quando nel 2020 non verrà organizzato, non prenderà vita effettivamente questa importante manifestazione che vede Trieste al centro della scienza. Oggi approfondiamo proprio gli aspetti fondamentalmente tecnici che stanno alle spalle della manifestazione, nel senso che andiamo a vedere, andiamo a capire assieme all'architetto di Pretoro come verrà organizzata, diciamola, chiamiamola, meno la chiamo io poi lei mi correggerà, la cittadella che ospiterà ESOF, a partire dalle zone interessate del Porto Vecchio, capiremo anche quali attraverso delle slide, e anche cosa ci sarà all'interno. Facciamo una panoramica sulla grande area e riduciamola ai campi di interesse. Benissimo. Allora, ESOF verrà organizzato principalmente nel Porto Vecchio di Trieste, per quel che riguarda tutta la parte puramente di open forum scientifico. Nel senso che ci saranno all'interno dei vari spazi messi a disposizione dall'amministrazione del Comune di Trieste, diverse sale sotto commissione e un auditorio plenario, che serviranno appunto per le divulgazioni scientifiche e tutti gli eventi previsti dalle manifestazioni. Il mio compito, nello specifico, è quello di organizzare gli spazi e progettare tutta l'allestimento di questo evento, che per capirci potrebbe essere assimilato un po' a un grande festival, come un festival del cinema di Venezia, piuttosto che una biennale, quindi con edifici già esistenti che vengono allestiti temporaneamente per questo evento. È un allestimento molto importante in ogni caso, infatti sarà oggetto pure di una gara internazionale, logicamente, si tratta di un allestimento che va dai 900 milioni di euro, quindi una cosa abbastanza importante. E quindi noi utilizzeremo in parte gli spazi del Porto Vecchio, che sono già di proprietà del Comune, e quindi già messi a disposizione perché ristrutturati anche precedentemente dall'autorità portuale. Si tratta del magazzino 26, dove già sono stati fatti diversi eventi, quindi la parte ristrutturata che è la testa, sul lato, sottostazione e centrale aerodinamica, che anche quelle sono già ristrutturate e sono già funzionanti. La parte della sottostazione elettrica oggi è già l'headquarter di Ezov, all'interno del quale ci sono tutti gli uffici, ci sono le sale del Presidente, le sale di riunioni, dove già oggi l'evento si sta organizzando, il cuore pulsante, diciamo, la centrale operativa. La centrale operativa, esattamente. In più, utilizzeremo tutti gli spazi esterni, che verranno allestiti per l'occasione, e quindi il traffico verrà sospeso ed interrotto. Noi, infatti, abbiamo rinominato la piazza che oggi è davanti al Molo Zero, sul bacino, l'abbiamo ribattezzata la Gorà della Scienza. Perché tutti questi scienziati, sono circa 4.000-4.500 persone, sono attese, vedendo i numeri di Tolosa e Manchester, che sono gli Ezov precedenti, avranno l'occasione di incontrarsi, di parlare, anche face to face, magari davanti a un caffè, davanti a un aperitivo, o semplicemente a pranzo, perché comunque dovrà essere allestito anche un ristorante vero e proprio, e almeno 4 bar e caffetterie distribuite nei vari spazi. Un'area hospitality, diciamo. Infatti, vedendo già le immagini, si può capire bene, non so se... Allora, intanto fermiamo questa foto, così la possiamo analizzare. Noi vediamo le parti colorate, magari anche grazie ai colori... Le parti colorate differenziano quali sono le destinazioni d'uso e delle diverse attività. Ok. Partendo dall'alto, si possono vedere in alto a destra c'è il magazzino 26, soltanto il piano terra, e alla sua sinistra c'è la centrale aerodinamica. Che è quella, diciamo, in viola. Quella verde, la zona verde, con anche la sala conferenze celeste. Ah, ok, perfetto. La zona verde rappresenteranno tutta la parte di hospitality per il relatorio e gli speaker che arriveranno dall'estero e quindi avranno bisogno di una parte un pochino più VIP, tra virgolette, ma nel senso che verranno accolti in maniera diversa rispetto al pubblico normale. E quindi ci saranno diverse speaker rooms dove potranno rilassarsi, depositare le loro valigie e quant'altro. E ci sarà un bar dedicato all'esterno della struttura, che sia, lo vediamo, già esistente una parte, poi c'era una zona lounge, invece, tra il magazzino 26 e l'idrodinamica. Ok. E in più ci sarà anche in questa, c'è già in realtà, la sala conferenze che verrà utilizzata per una delle normali sale di sottocommissione che già è stata realizzata. L'edificio ancora a fianco, che si può vedere quindi in viola e azzurro, Quello più in alto a sinistra? In alto a sinistra. Perfetto. E la sottostazione elettrica, e quello è l'headquarter di ESO, fetale rimarrà fino a tutta la durata dell'evento. Ok, quindi sarà il centro nevralgico, diciamo, di tutte quelle operazioni che servono per mantenere in piedi l'efficienza dell'evento intero, della struttura, della funzionalità, delle persone, tutto quanto. Corretto, sì esatto, e soprattutto sarà la zona in cui magari gli ospiti più illustri, se dovesse venire il Presidente della Repubblica, piuttosto che qualche ministro, eccetera, verrà accolto e ricevuto dalle autorità. Ok, perfetto. In più ci sarà una piccola crisis room nella zona a livello meno uno, richiesta appunto dalla Polizia, del Prefetto, per questione di normale ordine pubblico. Di ordine pubblico, certamente. Invece, tornando alla planimetria, potremmo vedere il magazzino 27 e il magazzino 28, questi due in basso rispetto alla sottostazione. Il 27 e il 28 dovranno essere pronti, e questi stanno i lavori e li farà comunque il Centro Congressi TCC, che renderà agibili, diciamo, già per ESOF, che sarà il primo evento di fatto del Centro Congressi Trieste. Ok. Diciamo che io in questo momento ho un doppio cappello, io in realtà io col mio studio, perché non è qui, ma il mio socio Giulio Paladini sta seguendo tutta la progettazione architettonica della parte del TCC, mentre io seguo principalmente ESOF. Quindi in realtà il nostro studio ha un po' due cappelli, ma che sono stati fondamentali, perché le cose procedano in maniera sinergica ed equilibrata per arrivare a un risultato vincente, perché comunque i tempi sono molto stretti e soprattutto la manifestazione ESOF deve riuscire al meglio, visto che è una vetrina internazionale molto importante per la nostra città. Il Centro Congressi sorgerà in magazzino 27? Nel 27 e nel 28, e sarà collegato da un ponte. Ok, perfetto. Entrambe i magazzini avranno delle sale e conferenze, la più grande è quella da 1.400 posti, che verrà utilizzata solo per 1.400 e per ESOF, mentre invece sarà permanente poi nel futuro una sala da 1.900 posti. Ok, sempre a cavallo fra i due edifici, diciamo. La sala da 1.900 è nel 28, nell'edificio più basso, mentre invece nell'edificio 27 ci sarà una zona più, diciamo, fieristica, espositiva, e invece con due piccole sale e conferenze da 100 persone. Ok, ok, benissimo. Sulla destra invece, sempre a fianco il 27 e il 28, quella fascia... Sì, sì, chiudo, scusa, proseguo a lei perché altrimenti... Manca anche tutta una parte di accoglienza e di zone di sale stampa. Ok. Va bene che sarà importante perché a seguito delle conferenze più importanti poi ovviamente voi giornalisti dovete... Certo, certo, è vero, un press room sempre necessario. Esatto. A quel punto c'è sull'esterno un'altra zona, sempre indicata con l'azzurro, che è un'altra zona espositiva e più fieristica, nel senso che ci saranno tanti piccoli stand, o di due metri per due o quattro per quattro per degli espositori o per comunque degli operatori scientifici che potranno anche divulgare la loro attività. Ok. Mentre invece la zona arancione, le due zone arancioni, la prima è quella più a ridosso del bacino del muro zero e l'altra invece di fronte al magazzino 27, saranno quella che chiamavo prima la Gorà, nel senso che la piazza nel cui ci saranno tutte le zone più, diciamo, dedicate allo svago, lounge, dei saluttini, del bar, dei freschi. E se mi posso permettere, come saranno? Allestite? Esatto, sì, cosa si si vedrà? Cioè ci sarà... Allora, innanzitutto cercheremo di coprire tutto con delle mochetto, delle erbe sintetiche, eccetera. Porteremo molto verde, tutto ovviamente a noleggio, sulle cose che non rimarranno. E soprattutto per la parte bar e spazi caffetteria creeremo delle pensiline per il modo da ombreggiare il piazzale perché il problema estivo sarà che ci sarà molto caldo, sole battente e lì c'è l'asfalto che tira su un sacco di calore. Quindi prevediamo di fare tutta una base, una pedana che sarà rivestita a un erbo sintetico in legno con del verde e con delle pensiline che andranno a coprire e ombreggiare tutta la zona caffetteria. E quindi ci saranno in parte tavoli e sedie da bar, normalissime, e in parte invece dei saluttini allestiti proprio per dare la possibilità anche alla città, al pubblico, di incontrare gli scienziati se avessero il piacere di scambiare quattro chiacchiere. Mentre la parte arancione più bassa che identificava la zona ristorante sarà proprio un vero e proprio volume chiuso, anche in caso di pioggia o piuttosto che, da 1.400 persone perché comunque tutti questi scienziati dovranno pur mangiare e quindi dovranno anche organizzargli una sala ristorante. Le caffetterie comunque non saranno solo queste perché poi ci sarà la caffetteria nel 27 che è già predisposta e presente nel progetto del centro congressi e in più c'è la caffetteria nel magazzino 26. Che era già esistente, se non sbaglio, dalla riqualificazione iniziale di quella testa. Esatto, e sarà uno dei core principali delle attività perché all'interno del magazzino 26 ci saranno almeno 6 sale conferenze da 99 posti più quella già esistente da 200 e quella è la zona più importante di ESOF per quanto riguarda le conferenze. Ok, quindi nel magazzino 26 diventa idealmente la parte più importante da un punto di vista delle conferenze anche se ha le sale più ridotte, cioè rispetto a quelle due grandi che verranno poi realizzate... Sì, diciamo che sono più piccole ma perché queste sono le richieste, le necessità date proprio dal programma ESOF che si sta concludendo, si sta prendendo forma in questi mesi però già l'idea di avere il numero di posti ben definito è stato dettato proprio dal project manager di ESOF che è la maia di Simone che ci sta dando tutte le... con la quale stiamo lavorando a quattro mani su tutti i progetti proprio per arrivare a creare un prodotto personalizzato per l'evento. Il tutto è già diviso in argomenti oppure poi le varie conferenze, i talk e quant'altro vengono smistati proprio in base alla capienza? Cioè si può pensare che magari l'area della ricerca sulle molecole farà fatta tutta in una parte e l'area invece della ricerca sulle risorse rinnovabili da un'altra? Cioè è diviso in settori, in categorie oppure è più che altro in base alla capienza della stanza stessa? Allora, principalmente le sale sono divise su quelle che sono le necessità riscontrate negli ESOF precedenti Ok, però non ci sarà una definizione così dettagliata e definita, il secondo piano, il terzo piano in base sarà un pochino mescolato, comunque il programma dettagliato verrà costruito nei prossimi mesi perché comunque ricordiamoci che ne stiamo parlando oggi per un evento che si... Sì, fra due anni Sì, fra quasi due anni, non è mezzo Per quanto riguarda poi il programma nello specifico legato ai temi in ogni singola sala chiaramente dovrete eventualmente la maia di Simoni che si occupa di questo aspetto Ok, lei è più sui contenuti Nesta più di me Quello che certamente su cui stiamo lavorando sono tutte le necessità dal punto di vista sia tecnico-logistico che dobbiamo risolvere con architetti per poter dare un servizio sufficientemente adeguato a quelle che sono le aspettative comunque di un evento che ha un eco internazionale Certo, le faccio una domanda che molto spesso viene poi utilizzata quando si parla di politica ma in verità poi è più tecnica Si dice che nell'area più vasta del Portovecchio mancano quei servizi primari come insomma le fognature, l'elettricità, i collegamenti e tutto questo tipo di servizi Come si ovvia anche solo temporaneamente in quanto non tutte le strutture saranno definitive solo il centro congressi e le altre sono provvisorie a superire a questa esigenza Se di questa esigenza si tratta però Sì certo, allora innanzitutto c'è da dire che il Comune di Treste, la nostra amministrazione ha fatto un passo molto importante perché realizzerà tutta la parte di strada che divide il magazzino 2728, quindi quella parte sarà urbanizzata Ok E su questo c'è stato un impegno da parte del Comune, devo dire, molto valido perché lavoriamo anche in parallelo con tutti gli uffici dell'amministrazione proprio perché i cantieri diciamo siano coordinati Per quanto riguarda invece gli edifici che vengono allestiti temporaneamente o le sale temporanee, in realtà ci sono degli allestitori in Italia Professionali Professionisti che sono abituati a montare e smontare eventi Ok, quindi generatori, qualsiasi cosa Portando dei generatori di corrente, portando tutti i condizionatori per rafrescare gli ambienti Insomma stiamo organizzando tutto da tutti i punti di vista, anche quello impiantistico E' chiaro che in altre zone del Porto Vecchio, più verso la città, gli edifici sono ancora fachiscenti e quindi lì sarebbe stato molto più difficile Invece già il magazzino 26 in parte è ristrutturato ed è già funzionante e operativo e come dicevo prima l'idrodinamica è già ristrutturata e funziona e fuori la sottostazione evidentemente anche quella che è già il centro operativo di Fit Qui vediamo semplicemente un altro punto di vista del progetto che lei ha illustrato prima con quelle che saranno poi le aree che sorgeranno fra definitive e, chiamiamole, temporane e poi la piazza dove verrà, come ha detto lei giustamente poco fa, anche allestita questa zona di incontro fra licenziati e il pubblico e la zona ristoro per le persone che arriveranno a Trieste Da un punto di vista logistico sono previsti, dico per dire, posteggi per i pullman arrivi di auto, taxi, movimentazione? In questo caso come siamo messi? Innanzitutto c'è da dire che essendo un evento che punta all'internazionale e chi verrà a visitare ESO tendenzialmente saranno già tutti accreditati e gli accreditamenti verranno fatti online prima dell'inizio dell'evento e quindi arriverà gente un pochino da tutta Europa, da tutto il mondo quindi difficilmente si muoveranno via gomma tendenzialmente arriveranno col treno, col aereo quindi il problema dei parcheggi è relativo è relativo, ci sono già comunque dei parcheggi dietro il magazzino 26 e Centro Congressi realizzerà anche in accordo col Comune un parcheggio a ridosso della rotonda che sarà realizzata anche come continuità al progetto della strada di cui parlavo prima quindi i parcheggi non credo saranno un grosso problema invece per arrivare nel villaggio della scienza come l'abbiamo chiamato ci saranno diverse possibilità quindi gli scienziati arriveranno dal centro dove ovviamente resideranno con gli alberghi o con gli autobus e la linea 636 verrà implementata con un'altra linea mi sembra definita 80 e ci saranno delle navette 80, la linea 80 in più ci saranno degli shuttle delle navette su gomma che attraverseranno il Porto Vecchio e poi arriveranno direttamente dal centro città entrando in Porto Vecchio quindi Largo Santos esatto e poi dopo ci sarà anche la possibilità di arrivare via acqua e quindi dal mare da Molla Audace ci sarà un servizio di taxi boat diciamo non sarà il delfino verde ma una barca simile che porterà circa una capienza di 200-300 persone alla volta all'interno del bacino Molo Zero solo gli accreditati però in questo caso o anche il pubblico gli accreditati ed eventualmente il pubblico infatti anche uno degli aspetti più importanti sarà quello di far portare più gente possibile all'interno della Gorà della Scienza perché è chiaro che ci saranno un sacco di eventi di conferenze molto settoriali molto specifiche però ce ne saranno anche tante altre di grandissimo interesse e alla portata di tutti però ecco quello sarà un'organizzazione sicuramente collegata a quella degli ospiti scienziati certo prego 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 no 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 finito ci sono poi immagino che tutti gli aspetti che hanno a che fare con fondamentalmente l'ordine pubblico gli steward chi deve accogliere non sono in capo a voi voi vi occupa? no c'è stata già bandita una gara per il PCO che è proprio l'organizzatore di tutta la è una figura che organizza proprio tutti questi aspetti gli alberghi, i ristoranti coordina le tipologie di eventi insomma è un altro tipo di progetto nel progetto specifico per manifestazioni come queste ok quindi detto che diciamo dei contenuti ne parliamo magari in un altro momento anche con le altre persone per capire poi cosa immagino che a ridosso dell'evento ci saranno tantissimi modi per informarsi su trovare quella conferenza in quel posto avere indicazioni di la giornata in cui si parla di quindi su quello non credo che ci saranno problemi e anche come abbiamo capito anche il modo di accedere all'area per tutti che siano gli accreditati, gli scienziati, i relatori o il pubblico sarà anche tutte le indicazioni saranno date che portata a questo tipo di progetto anche visto dall'esterno da un punto di vista proprio di non tanto di contenuti ma quanto di struttura cioè diamo la dimensione anche non so della grandezza di questo tipo di progetto da un punto di vista della spesa da un punto di vista degli investimenti da un punto di vista anche delle visibilità è possibile farlo in qualche modo? beh sì, chiaramente solo guardando gli ESOF pregressi quelli di Tolosa, Manchester sono dei numeri importanti e già quelli fanno in qualche modo statistica tant'è vero che sono previste circa 4.500 per me persone presenti alle conferenze e come dicevo prima a credito specifico per quanto riguarda le conferenze legate alle tematiche ESOF l'evento comunque è molto limitato perché si tratta di pochi giorni dal 5 al 9 luglio 2020 mentre parlo degli eventi all'interno del Portovecchio quello che però darà ulteriore eco e quindi anche visibilità e connessione con quello che è il tessuto cittadino perché spesso la comunità scientifica è stata sentita un pochino distante pur se è molto presente sarà il Science in the City Festival nel senso che verrà organizzato anche un festival ma per un periodo più lungo quindi da 27 giugno all'11 luglio anche in diverse sedi all'interno della città Parazzo Gopcevic, Rossetti il Salone degli Incanti sono tutti eventi che si stanno organizzando che ESOF sta organizzando con un'organizzazione specifica legata agli eventi collaterali all'interno della città questo devo dire con una grandissima disponibilità dell'amministrazione che è in un momento magico perché adesso sembra che tutto sia possibile prima un po' di tempo fa si diceva il famoso Paul Far invece adesso sembra tutto fattibile sembra tutto alla portata di mano devo dire che è un piacere lavorare in questo modo faccio un esempio abbiamo fatto un tavolo di lavoro organizzato dalla prefettura perché dovevamo utilizzare l'accesso aqueo e quindi il taxi boat sembrava una cosa complicatissima abbattere, spostare i gessi eccetera mentre invece il prefetto ha fatto questa riunione c'erano tutti gli attori sul tavolo l'autorità portuale c'erano i vigili del fuoco c'erano noi, c'era il comune ed è stato interessante perché tutti erano disponibili a risolvere e non a creare problemi devo dire la prefetto è stata eccezionale perché ci ha dato subito carta bianca e ha apprezzato l'idea di aprire ESOF anche sul bacino acqua se avete presente la zona oggi ci sono i gessi che lo chiudono quindi un domani non ci saranno almeno per quel periodo anche grazie all'autorità portuale che si è reso disponibile a dare una mano che dimensione ha un progetto di questo tipo per uno studio come Metro Area? cioè vi sta praticamente impiegando tutti oppure riuscite a... per fortuna no no perché ovviamente se no si ferma tutto il resto però ecco insomma comunque è un lavoro importante per uno studio come il vostro è un lavoro molto prestigioso assolutamente e io devo dire che sono che sono sicuramente molto impegnato su ESOF però il mio socio è impegnatissimo anche sul centro congressi abbiamo lavorato veramente tanto su questi progetti il nostro studio ha un organico abbastanza consolidato negli anni competitivi non lavoriamo solo a Trieste lavoriamo anche tanto all'estero e quindi riusciamo e quando magari qualche lavoro all'estero viene a mancare riusciamo sicuramente a impiegare le nostre risorse in maniera molto elastica e questa è la fortuna perché siamo comunque uno studio considerato piccolo però ci piace spaziare ecco quindi siamo sicuramente in grado di portare avanti un evento come questo perché ripeto di fatto si tratta di un grande allestimento certo per quanto riguarda il livello progettuale non è che si costruisce nulla sì sì certo al di là del centro congressi il centro congressi verrà costruito ma ESOF in realtà utilizza degli spazi che saranno già esistenti ecco si può dare una sorta di è brutto da dire percentuale di quanto verrà messo temporaneamente quanto invece verrà utilizzato delle strutture già presenti cioè quanto ESOF sarà già nelle strutture che esistono già ma anche tra arredi pensiline piante divani sedie poltrone tappeti monitor eccetera penso che un 85-90% verrà preso ex novo e utilizzato temporaneamente mentre il resto verrà utilizzato delle strutture già esistenti delle strutture già esistenti che strutture saranno fondamentalmente dei gazebo oppure la dico quasi in maniera volgare gazebo però diciamo che io sono totalmente contrario ai gazebo stile barcolana non mi piacciono strutture di questo tipo strutture di quel tipo a livello tipologico ma sicuramente con altri materiali e fatti un pochino meglio ok ecco un occhio sempre alla sicurezza per la borra eccetera per fortuna luglio non è che ci dovrebbe essere grandi raffiche però faremo degli stand un attimino più eleganti ecco diciamo di barcolana anzi mi auguro che dopo eso forse anche barcolana inizierà a guardare un pochino a degli stand un pochino più carini che ce ne sono sul mercato tantissimi stiamo facendo una ricerca enorme da questo punto di vista esistono sono molto belli sono certificati per la borra e forse costano un pochino di più però l'effetto è diverso però io credo che ne valga la pena ecco vediamo ancora qualche slide allora questa l'abbiamo vista prima ed è la panoramica abbiamo capito di cosa sarà del villaggio di Esof è la vista sonometrica questa è un'altra vista sonometrica spalle la città sostanzialmente si è lo stesso da un altro punto di vista lo stesso lo stesso argomento insomma ecco mentre questa è la panometria dall'alto in cui si vedono anche i piani superiori in alto a destra i piani superiori del magazzino 26 nella testa del magazzino che è quella che è stata la testa che è quella già ristrutturata è quella che noi utilizzeremo e quindi si vedono quei rettangoli azzurri rappresentano le sale che dicevo prima di sottocommissione da circa 99 posti perfetto ce ne sono 6 più una già esistente più una sala dedicata a conferenze un pochino più ristrette mentre invece l'area verde è la zona per i giornalisti quindi una sala stampa da 112 posti e invece la zona arancione è sempre la piccola caffetteria che c'è sul pergolato sulla terrazza del magazzino 26 che è molto bella già esistente verrà semplicemente arredata a dovere per l'evento mentre al piano terra ci sarà la mostra dell'OID che rimarrà anche per tutto il periodo di ESOF è comunque una mostra temporanea quindi anche quella può essere una cosa interessante perché si coglie l'occasione per fare in modo che venga visitata non so se c'era ancora un'altra foto forse mi sbaglio io però probabilmente no? no c'erano queste temenze quanto anche dal vostro studio dal vostro lavoro avete cercato di carpire dalle edizioni precedenti o dalle richieste che potrebbe avere il mondo scientifico c'è qualcosa che vi ha detto ok siamo convinti che anche attraverso indagini approfondimenti studi che il mondo scientifico gli altri ESOF sono stati fatti in questo modo cerchiamo di stare sul tema c'è qualcosa una linea guida ce l'avevate dall'inizio del lavoro beh sicuramente come in tutti i progetti prima di iniziare a lavorare ci si informa e si dà un occhio a chi ha già fatto perché di fatto non si inventa nulla ma si può solo migliorare quello che già cercare di migliorare quello che si è già visto gli ESOF precedenti comunque erano inseriti soprattutto a Tolosa in una situazione anche politica un po' diversa perché per esempio a Tolosa è stata imposta una perimetrazione molto accorta dovuta anche alle problematiche legate agli attentati ok mentre appunto a seguito della riunione in prefettura ci è stato detto che certo anche in Italia c'è un'attenzione molto alta ma non siamo nelle stesse condizioni della Francia e quindi di conseguenza abbiamo potuto evitare la perimetrazione che per un evento di una portata e di un'apertura tale sembrerebbe un controsenso chiudersi dentro un recinto e quindi è stato interessante che già per esempio questa differenziazione ci abbia permesso di creare un evento più aperto e anche permeabile a tutti ed è quello che si vuole portare avanti anche nell'ottica del disegno e proprio dell'allestimento quindi diciamo gli spazi scelti rispondono in maniera più che sufficiente alle previsioni assolutamente abbiamo fatto i conteggi diciamo su quelli che erano gli afflussi di Torosa quindi intorno ai 4.500 4.000 4.500 unità per ogni giorno della manifestazione per tutto l'evento per tutto l'evento sì per dare un'idea abbiamo anche il nostro studio è allestito pure Trieste Espresso assieme ad Ariess ed erano circa mi sembra 13.000 persone in un weekend quindi comunque una portata importante ma è diluita nella settimana infatti è per questo che abbiamo voluto dare anche un ampio occhio di riguardo a quelli che sono gli spazi esterni perché essendo poi estate essendo comunque che io ritengo e anche ovviamente il professor Fantoni che è il presidente che le cose più importanti di questo ESOF devono essere anche gli scambi tra le persone quindi non soltanto il momento della conferenza ma soprattutto lo scambio e quello che ne viene al di fuori e non solo tra scienziati ma anche tra il pubblico e la cittadinanza ed è per questo che è diciamo un ESOF verso l'apertura quindi sia l'apertura del luogo dedicato alle conferenze ma anche all'apertura della città grazie al fatto che verrà organizzato come dicevo prima questo Sizing the City Festival molto importante che lancia già nelle settimane precedenti quello che poi è il clou di ESOF di quei giorni di luglio del Porto Vecchio ultima domanda poi siamo in chiusura lei ha detto una parola secondo me molto giusta anche la manifestazione di apertura di un mondo scientifico che ogni tanto è un po' identificato come circoscritto e chiuso in se stesso in un'area che sappiamo per chi di Trieste lo sa meglio ancora meglio essere sempre stata vista come un ghetto quasi una zona proibita una sorta di di cancello chiuso della città quindi una doppia apertura sia il mondo scientifico che il Porto Vecchio ci si coniugano due aperture in un colpo solo sì 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 assolutamente io poi da Barcolano ho passato la vita a vedere un recinto chiuso quando è stato aperto la prima volta ho esultato se posso solo una piccola parola finale vorrei ringraziare il preparo Ferrante di cui ho preso il posto ovviamente come direttore tecnico in continuità perché collaboravo con lui già da parecchio tempo e anche tutto il mio studio assieme a lui su questo progetto e quindi ho una piccola parola in memoria di Pierpaolo che è una persona io devo dire insostituibile dal punto di vista umano e quindi mi sembra assolutamente sì di chiudere soltanto con un ringraziamento a Pierpaolo più che doveroso grazie allora all'architetto Tazio di Pretoro direttore tecnico di ESOF 2020 e anche uno dei soci assieme a Giulio Paladini del studio Metro Area associati grazie ancora grazie noi ci fermiamo per la pubblicità ci ritroviamo però tra poco torniamo in diretta con Trieste in diretta anche perché non poteva essere altrimenti siamo in compagnia di Andrea Binetti l'amico di Telequattro tenore Andrea Binetti intanto buon pomeriggio ben trovato grazie a voi grazie per questo invito insomma ormai mi sento di casa insomma veramente tre amici allora oggi non c'è Umberto Bosazzi che salutiamo lo salutiamo quindi diciamo verrò aiutato io dal nostro ospite perché ne conosco di meno di Bosazzi e non poteva essere altrimenti però mi ha indottrinato un pochino mi ha un po' informato su quelli che sono gli argomenti di questo pomeriggio la presentazione di tre spettacoli e quindi andiamo diciamo intanto a presentarli dopodiché approfondiamo anche un po' quelli che sono come dire i contenuti e quello che ci si aspetta beh allora cominciamo subito dal primo spettacolo importante che riguarda appunto io si riguarda perché siccome sono tre mi confondo vista anche l'età il galà dell'operetta del musical che andrà in scena appunto domenica 23 dicembre alle ore 17.30 nell'ambito del Politea Marossetti il galà annuale che l'associazione internazionale dell'operetta appunto fa e regala come festa alla città sulla piccola lirica insomma la piccola lirica tanto amata da noi triestini non soltanto forse una delle glorie una delle nostre perle delle punte di diamanti di Trieste nel mondo quest'anno come ogni anno verranno consegnati i due premi importanti quindi il premio internazionale dell'operetta a un artista internazionale nazionale internazionale un grande attore che ha fatto gli anni le pagine che ha segnato le pagine d'oro del nostro festival triestino l'attore Riccardo Peroni milanese un attore poi che ha fatto cinema che ha fatto televisione ha fatto tantissimo doppiaggio insomma ha un curriculum veramente lunghissimo per elencarlo dovremmo fare più puntate quindi non è il caso insomma giustamente gli verrà conferito questo premio noi triestini lo abbiamo nel cuore chi ha qualche annetto in più lo ha visto sicuramente negli anni d'oro appunto del festival memorabile la sua interpretazione giovanissima accanto a quell'altra grande star che è la Daniela Mazzucato in Scugnizza dove facevano veramente il duo brillante Salome e Chic insomma hanno avuto premi premi nazionali ovazioni sono stati travolti da applausi e da gloria giusta quindi gli verrà giustamente conferito questo premio questo premio alla carriera questo premio internazionale internazionale dell'operetta e poi ci sarà anche il consueto premio invece a un artista più giovane in questo caso a un triestino devo dire a Gianluca Sticotti il premio Sandro Massimini un premio dedicato quindi ai giovani in questo caso ai giovani che spendono la loro carriera e la loro bravura nell'ambito invece del musical insomma Sticotti è un ragazzo che ormai è in carriera anche lui da più di 10 anni sta facendo una bellissima carriera nazionale non solo è un ragazzo eclettico parla più lingue insomma per cui un meritato premio a quello che è stato poi il mio maestro insomma perché tutti sanno che ho debuttato proprio con nella grande compagna di Sandro Massimini 32 anni or solo ecco tu sei molto più giovane quindi io ho 33 anni potresti essere mio figlio guarda assolutamente sì assolutamente sì complimenti per cui quindi allora a questo ovviamente questo galà internazionale appunto di domenica ci sarà accanto a me Ilaria Zanetti questo questo piccolo grande soprano bonsai come la chiamo io in maniera simpatica sì perché è una grandissima artista ma di statura non altissima per cui io la chiamo il mio soprano bonsai infatti chi ci conosce viene apposta per divertirsi in questo senso poi ancora il basso Eugenio Leggiadri Gallani perché perché faremo un percorso che andrà da Rossini visto che quest'anno c'è l'anniversario del grande Gioachino Rossini quindi da Rossini passando per l'operetta e arriveremo appunto al musical dove appunto oltre ad ascoltare come dicevo Gianluca Sticotti ci sarà anche una star nazionale internazionale ma anche lei triestinissima Stefania Seculin per cui insomma l'orchestra l'orchestra la mite dell'Europa l'orchestra diretta ovviamente dal maestro Romolo Gessi quindi insomma posso dire un appuntamento per tutti dai 0 ai 100 anni perché insomma c'è un po' di tutto l'opera lirica con il grande Rossini l'operetta per chi ama l'operetta e diciamo questo spettacolo più fresco più giovanile per poi arrivare al musical che travolgerà i giovani per fare il botto diciamo facciamo il botto di pre-capodanno con il musical ma infatti volevo domandarti il musical come sta andando in questi ultimi anni perché se ne sente parlare sempre tanto solo che però correggimi tu se sbaglio se dico una bugiardata che è sempre più difficile stare dietro soprattutto a quelle che sono le trasposizioni musicali dei film sono abbastanza d'accordo poi sai quando vedi grandi capolavori nei film è difficile fare appunto delle riduzioni teatrali no? e poi soprattutto ci vogliono grandi mezzi e grandi artisti io dico che noi in Italia stiamo crescendo in questo senso e va molto per la maggiore la Berthian School questa grande scuola di Bologna dalla quale escono la maggior parte anche dei nostri performer triestini insomma Daniela Pobega Stefania Secolin Gianluca Sticotti Berdini insomma è una scuola molto importante perché è fatta da una persona che ne sa questa Shana Farrell insomma c'è lei è un'americana quindi è una che di musical ne sa anche perché io dico sempre noi per imparare il musical dovremmo veramente frequentare il West End londinese o Broadway cosa che io faccio spesso e vado a vedere per imparare come chi vuol cantare invece studiare il bel canto o la lirica da tutto il mondo viene giustamente a studiare da noi in Italia perché siamo in assoluto i primi al mondo per questo che differenza c'è tra il musical in Italia e invece magari a Londra di mezzi soprattutto di mezzi di mezzi intanto perché gli allestimenti londinesi e a Broadway rimangono in scena per anni lo sappiamo decenni addirittura per cui godono di grandi impianti di grandi macchine sceniche fisse costosissime noi spesso abbiamo il grande privilegio in questa nostra città devo dire di avere ospiti da Londra e non solo appunto produzioni internazionali il Politea Marossetti in questo fa un grande lavoro per quanto per cui arrivano queste produzioni che pur portando i grandi allestimenti non portano di certo l'allestimento fisso che hanno in loco la grande differenza secondo me sulla quale noi italiani dovremmo lavorare però che puntare sulla qualità perché noi molto spesso per risparmiare prendiamo magari performance che magari arrivano dal mondo della danza e magari alcuni alcuni canticchiano no tu vai a Londra e vedi il cantante il tenore che canta il fantasma dell'opera magari due mesi prima cantava Traviata la Metropolita la Bohème la Metropolita insomma giustamente lì hanno i cantanti che cantano i danzatori i ballerini di altissimo livello che danzano e poi tutte le parti recitate attoriali perché l'operetta come il musical sono forse le forme di spettacolo più complete e anche più difficili dove si alternano appunto le varie le varie le varie pratiche del teatro il canto il ballo e la recitazione insomma quindi domenica 23 alle 17.30 domenica 23 alle 17.30 al Politea Marossetti il gran galà internazionale appunto dell'operetta appunto con i due premi internazionali poi si arriva allo spettacolo di fine anno dove invece al teatro sloveno ore 21.30 il 31 appunto eccolo vedete applausi al 2019 no che questo 2018 se ne vada non errebbe esistire ma è stato un anno impegnativo in molti sensi anche qui un parterre di artisti un parterre di artisti capitanati dal sottoscritto perché ho il privilegio grazie al Trieste Lions Host che è il club che organizza da 12 anni pensate questa grande manifestazione appunto per passare assieme la notte di Capodanno e accogliere l'anno nuovo dall'anno scorso ci siamo trasferiti al teatro sloveno con il teatro eccezionale perché ha un palcoscenico è una macchina scenica pazzesca poi si sta veramente molto bene il pubblico è contento a molti spazi a questo grande foyer perché lo spettacolo che va dalle 21 e 30 alle ore alle 2 di notte prevede anche ovviamente gli auguri di mezzanotte e il rinfresco per cui insomma veramente se non avete di meglio da fare ma anche se ci avete venite comunque a trovarci la squadra è stupenda anche qui allora avremo due star del musical e Daniela Pobega e Stefania Secolini anche qui Ilaria Zanetti che l'ho chiamata una sorta io dico un amuleto un amuleto se Fabio Fazio c'è la lucianina noi avremo Ilariuccia e le ho costruito un copione ad hoc dove la vedrete fare delle cose veramente strampalate il sottoscritto poi si presenterà a mezzanotte addirittura per dare l'oroscopo in una veste che non posso svelare in una veste poco veste che non posso svelarvi insomma sarà la sorpresa di mezzanotte ancora poi come performer Leonardo Zanier quindi con il tuo versante americano insomma lì un grande esperto un grande professionista di tutto il versante Frank Sinatra ed intorni e poi la presenza di due bellezze nostrane tra cui Claire Bosco ex Miss Trieste bellissima due gambe chilometriche che non starebbero qui nel monitor per cui veramente e Sophie Caffol altra ballerina loro scimmiotteranno in senso simpatico le grandi vedette degli anni d'oro della televisione tra cui faranno riproporanno il grande numero delle gemelle Kessler perché sarà un contenitore un contenitore che avrà l'operetta il musical la canzone popolare le canzoni della radio le canzoni della televisione andremo poi a riscoprire tutti i grandi personaggi che in Italia i grandi artisti i grandi attori i grandi generi che hanno fatto grande il mondo dello spettacolo in Italia e di conseguenza nel mondo e ancora il gruppo del flamenco devo ricordare le ballerie del flamenco con i loro abiti meravigliosi le batas funziona il mix di mettere assieme tante funziona perché questa è una sorta di cosa che ho ideato io da quando sono direttore un po' artistico di questa manifestazione ho detto ricreiamo quelli che erano i famosi sabato sera italiani cioè i sabato sera del contenitore del gran varietà nelle varietà si alternavano i quadri recitati i quadri ballati la comicità il cantante il balletto e vedo che funziona perché anche il pubblico a questo punto gode di varie generi e quindi accontente un po' tutti non diventa statico lo spettacolo si muove diventa vario diventa interessante in quest'anno poi devo dire ho scritto un copione un po' folle ma ho detto dai buttiamoci anno nuovo vita nuova ci sarà tanto da ridere e ridere fa sempre bene è la miglior medicina per la vita veramente questo invece ricordiamo quindi ha il 31 di dicembre dalle 21 e 30 21 e 30 al teatro sloveno e l'uno e se sopravvivo al 31 mi sposto di pochi metri perché il giorno invece il primo il primo il primo dell'anno sarò lì vicino invece al teatro Bobbio per il concerto di Capodanno con la civica orchestra di fiati città di Trieste diretta da Simone Comisso alle ore alle ore alle ore 18 al Bobbio dove canterò assieme invece a Maria Giovanna Michelini soprano faremo tanta operetta tanta musica diciamo rientri più nel tuo nel mio repertorio sì toglierò questi vesti di astrologo cartomante showman show tutto pulizie finali per fare il cantante d'operetta solamente come farò del resto al gran dell'operetta anche domenica prossima l'orsetti diamo le istrezioni per l'uso oppure le istruzioni per l'uso come voi i biglietti sono veramente fruibili a tutti costi veramente super popolari proprio perché la gente venga a teatro perché il teatro lo ricordo il teatro è un luogo magnifico per stare assieme ed è il luogo di tutti il teatro i biglietti i biglietti si trovano o alle casse dei singoli teatri di teatri quindi il Bobbio Rossetti e sloveno o se no veramente molto facile al ticket point che come sempre il bravo insomma si danno da fare per regalare tanta gentilezza devo dire accontentare il pubblico di Trieste non solo ci racconti un po' la preparazione di tutti questi spettacoli perché sono ravvicinati 23-31-1 infatti non capisco niente devo dire infatti io mi alterno poi tutto questo poi con tutto il resto dell'attività perché sono fresco fresco ti dicevo prima arrivo da poche ore da Modena dove abbiamo fatto il debutto questa prima mondiale del Castello Incantato questa nuova opera di Marco Taralli che è la storia un po' di Andersen del Soldatino di Piombo con il lieto fine che il nostro pubblico e non solo avrà il privilegio di vedere a Trieste da febbraio a maggio al Teatro Verdi di Trieste vi assicuro uno spettacolo eccezionario un'ora e mezza una favola la favola del Natale del buon umore la favola dei buoni sentimenti io poi interpreto il cattivo ma che poi in realtà è buono è semplicemente uno arrabbiato perché l'hanno dimenticato e voglio spezzare una lancia e ricordare che il teatro è un luogo importante per noi del pubblico per gli artisti ma in questo caso vi posso assicurare che le maestranze perché molto spesso spesso si nomina soltanto chi è in palcoscenico chi è davanti ma c'è un mondo che lavora anche dietro le maestranze i pittori gli artisti hanno costruito le scenografie eccezionali infatti a Modena abbiamo avuto un successo travolgente e quindi veramente un plauso va alla sartoria alla scenotecnica a tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte sono veramente maestri d'arte eccezionali al trucco al trucco infatti veramente un grande lavoro di squadra e quindi insomma la preparazione domani mattina ad esempio mi alzo ho colazione veloce poi c'ho dalle dieci e mezza a mezzogiorno e mezza le prove del galà di domenica ok dopodiché libero tutti entra la seconda squadra che è quella che invece provarà con me lo spettacolo di Capodanno poi vado fuori città a provare altre cose quindi devo alternare la mia agenda non è nera è nerissima è suddivisa a blocchi a settori a seconda delle ore della giornata si provano certe cose questo è un mestiere fatto di memoria ecco diciamo che è quello che ci aiuta molto è la memoria poi anche il riposo però deve essere contemplato di notte se il cervello non lavora che capita molto spesso che va da solo di notte si dorme qualche ora qualche insomma qualche ora perché magari le gambe si muovono da sole provano le coreografie la testa naviga insomma ti è mai successo di confondere non mi è ancora mai successo se dovesse succedere ti prego di stare attento e di prenotarmi un posto magari la casa di riposo Giuseppe Vero di Milano faremo in modo di indirizzarti a un posto giusto ecco ricominciamo diciamo da capo da un punto di vista dei contenuti dei contenuti perché 23 hai detto anche come poi il giorno 31 l'offerta sarà mista la mia domanda è questa un'offerta mista corre il rischio non di stufare perché come dicevi tu proprio l'effetto è contrario cioè di poter cambiare in sequenza gli stili i canti dal musical poi all'operetta quindi anche avere assaggi diversi ma c'è il rischio che si vada però a adesso dico a svilire un po' la qualità no no perché perché non è dedicato intendo perché no perché la scelta è pensata a tavolino sempre prima e soprattutto le squadre sono ottime tu quando sei circondato perché io credo assolutamente nel lavoro di squadra non ho mai creduto in 32 anni di carriera nel singolo il teatro la televisione c'è tutto quello che lavoro di squadra funziona allora io mi sono circondato di collaboratori eccezionali di artisti validi quindi so che posso dormire tranquillo so che casco in piedi come si dice e soprattutto appunto un lavoro di squadra quindi il pubblico avrà tre spettacoli simili ma totalmente diversi potrà godere veramente di tanta qualità e soprattutto di generi teatrali e musicali che noi triestini amiamo nel cuore e amiamo molto e non hai coinvolto il tuo amico Alessio Colauti Alessio Colauti l'avremmo coinvolto ma Alessio Colauti è difficilissimo coinvolgerlo perché è super impegnato che lui ci incrocieremo sicuramente per gli auguri ci faremo forse anche auguri in diretta tra un teatro e l'altro perché anche lui per fortuna per fortuna essendo una persona valida è giustamente impegnato il 23 fra l'altro conduce Umberto Bosazzi il 23 conducerà appunto Umberto Bosazzi dove avrà giustamente anche coinvolto una piccola scenetta insomma Umberto è un'altra garanzia poi l'abbiamo visto in tante vesti e anche poche vesti teatrali qualcuno si ricorda qualcuno si ricorda non voglio sapere di più invece diciamo superate questa settimana perché al fine si tratta di una settimana arriva la vigilia per fortuna quindi a casa con i genitori anzi auguri veramente a tutti voi alla mia città ai miei tristini a questa città che io amo molto dopodiché riprenderanno subito dopo la vigilia le riprese appunto dello spettacolo di Capodanno e del primo dell'anno e poi si inizia l'anno nuovo ecco che 2019 sarà per Anderle Pintetti intenso molto ricco devo dire grazie anche non solo a Trieste e sarò presente al Teatro Verdi con appunto con questo castello incantato che vi raccontavo da febbraio a maggio ma poi si parla di una storia di Natale sì e la storia del soldatino eh vabbè fuori stagione non fa niente ma Natale è una festa per cui faremo festa tutto l'anno alternerò questo spettacolo con Bastiano e Bastiana di Mozart tra l'altro mi è stata commissionata anche grande privilegio dal nostro teatro la regia di questo spettacolo e poi sarò anche protagonista tra maggio e giugno della Carmen di Ibizè quindi debutto in Carmen e dopo ovviamente altri spettacoli fuori e fuori città insomma ritorno a Parma ritornerò a Modena c'è un cioio farò anche una puntatina in Sicilia insomma si prospetta un anno bello ricco di esperienze diverse anche di vocalità diverse di spettacoli diversi che il buon Gesù bambino che nasce mi dia solo la salute insomma perché non devo stare a non avere mal di gola volevo chiederti siamo agli ultimi minuti però volevo chiederti un po' se secondo te è giusto riuscire a fare un punto della situazione a Trieste di quella che è l'offerta teatrale di quella che è l'offerta anche futura cioè in prospettiva come cresce questo movimento io ho il privilegio grazie a questo mestiere di girare molto e devo dire che Trieste per essere una città piccola medio piccola perché siamo veramente pochi è una città che ha un'offerta strabiliante anche in termini di quantità di recite non so io appunto adesso arrivo da Modena magnifica città ma due recite ho fatto qui noi abbiamo sempre sei sette recite a spettacolo a rappresentazione a spettacolo poi qui in questa città se uno vuole andare o al cinema o a teatro o al concerti o a conferenze insomma c'è sempre qualcosa da fare c'è sempre qualcosa da fare c'è veramente l'imbarazzo della scelta e devo dire anche a prezzi relativamente contenuti perché vi assicuro che in giro per l'Italia e per non parlare all'estero i prezzi sono molto più alti molto più alti quindi veramente Trieste è una città per tutti e ogni giorno veramente si può scegliere di stare assieme agli altri in un luogo dove si vive la cultura ma si vive soprattutto la cultura del rispetto è del comunicare dello stare assieme perché non ne posso più di vedere gente sempre più isolate sui cellulari lo dico chiaramente vado per i ristoranti vedo tavolate intere di testi così sempre col cellulare in mano ma dico lasciateli a casa andate al ristorante parlatevi comunicate se no state a casa veramente cioè comunichiamo abbiamo bisogno di stare assieme vedi anche gente a teatro col cellulare in mano purtroppo sì infatti per fortuna viene fatto l'annuncio l'annuncio di spegnere i cellulari è la cosa che mi fa impressione come finisce il primo atto per dire tutti i cieli trevallo si riaccendono i cellulari ed è una cosa che mi fa molta impressione ma è possibile che non si possa veramente stare senza più questo è il quesito del 2019 tema di un milione di dollari vero vero bene è tutto per questa seconda parte di Teresa in diretta gli appuntamenti sono il 23 di dicembre alle 17.30 al Rossetti poi il 31 alle 21.30 alla Sloveno e l'1 e l'1 alle 18 al Bobbio per il concerto di Capodanno grazie a Telequattro come sempre grazie a Uri grazie a Trebinetti per essere stato nostro ospite aver dunque anche poi dato il calendario dei prossimi appuntamenti a Trieste nei teatri ci fermiamo per una breve pausa e ritorniamo tra poco con altri argomenti